Altre sorgenti. Posso ricevere il Rav? È possibile di essere toccato il Rav se tu leggi due differenze sorgenti? Sì, sì, questa è la domanda. È possibile di essere connesso con il Rav in un modo corrotto, nella misura in cui tu leggi altre sorgenti? Il Rav significa che io devo essere solo in un unico posto, dice un amico. Qualunque cosa tu vuoi connettere con l'altro a un insegnante spirituale, tu devi lasciare ogni altra cosa ad essere legato a lui. Questa è la stessa legge dovunque, non solo qua. Se tu vai in qualche guru, da qualche parte, nel Malaya, in India, qualcosa tu puoi vedere. Chiedi a loro. In ogni saggezza spirituale tu devi essere legato ad un'unica cosa. Grazie Rav. Grazie.